C'è un equipaggio coraggioso Con la forza ed il coraggio tra le stelle tu viaggerai Orde di nemici affronterai per portare la libertà Tu con noi viaggerai, tu con noi lotterai La corazzata Argo piloterai, gridiamo Star Blazer, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai Il mondo vive di speranza e tu lo sai Guerriero delle stelle, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai Il mondo vive di speranza e tu lo sai Guerriero delle stelle, vai! Il mondo vive di speranza e tu con noi Sei righ 2201, Andromedaから銀河系へと 広大な宇宙をひた走る一つの彗星があった 広大な宇宙をひた走る一つの彗星があった それは大帝ズオーダーに率いられた彗星都市帝国であった アンドロメダ星雲を制圧した彗星帝国の次なる目標は 銀河系制圧であり我が地球攻略作戦をすでに展開していた 銀河系外周のシリウスプロキオン方面には バルゼーの第一機動艦隊を置き その後方テレザート星にはザバイバル将軍の機構士団 その前衛にボーラント提督率いるミサイル艦隊があった 謎のメッセージの発信者テレサを求め 太陽系を抜け出した宇宙戦艦ヤマトは 敵の罠にかかり宇宙の墓場サルガスソウに落ち込んでしまった しかしそのヤマトを危機から救ったのは 他ならぬテレザートのテレサであった 裏の旅立大メリー 来 wyser 確かラセビジューマトが説明中に この後方行いはやり分けてくれ 海津店から勇者自身 ほんまに理想いずる meglio. Wilter, vi siete già allontanati molto dalla Terra? Sì, signore, ma ricorderà certamente che il viaggio per Iskandar fu molto più lungo. Siete riusciti a ottenere altre informazioni sull'impero della cometa? Niente di più di quanto le ho già riferito, signore. Peccato. Non abbiamo rilasciato dichiarazioni sulla cometa bianca. Tutti credono che si tratti di un'immensa cometa che si autodistruggerà prima di raggiungere la Terra. Nessuno ancora sa che invece è l'impero della cometa, alla velocità con cui viaggia sarà presto vicino alla Terra. Dobbiamo saperne di più. Sì, signore, capisco. Voi, guerrieri delle stelle, siete i soli su cui possiamo contare per questa missione. Dobbiamo assolutamente saperne di più. Sì, signore. Ricordate che contiamo molto su di voi. Il contatto si indebolisce. Sarà meglio salutarci. Non ce la faccio mantenere la comunicazione. Homer, d'ora in poi sarà sempre più difficile collegarci con la Terra, ma sono certo che farai del tuo meglio. Ci proverò almeno. Il radar ha intercettato qualcosa. Inserisci il pannello video? Sì, signore. Sembra familiare. Già, sembra la stessa astronave che ha attaccato la base di Brumus. Rilevazione 11 megametri davanti alla nostra prua. Velocità 20 nodi spaziali. Provenienza da punto 9. Vediamo cosa possiamo fare. Con Roy, Hardy, preparate gli astrocaccia per il decollo. Qui con Roy, pronto al decollo. Ehi, Nox. Cosa fai? Non preoccuparti, Hardy, lo tratterò bene. Puoi stare tranquillo. Ehi, Nox. Dove vai? Fermati! Oh, no! Ragazzi. Ehi, Hardy, che fai? Sei pazzo? Hardy mi ha prestato il suo giocattolo, Willstar. Nox, idiota! Ad astronave sconosciuta, identificazione immediata. Da quale pianeta provieni? Cosa? Come risposta non mi è piaciuta molto. Bene, amico. Possiamo giocare insieme, se proprio vuoi. Eccolo! Willstar, non mi hai detto di aver già combattuto contro un caccia così veloce? Sì, quando la nostra squadra di pattuglia venne assalita. Faremo bene a catturarlo. Con Roy, Nox, cercate di catturare quel pilota. Voglio interrogarlo. Ehi, è pazzo. Quello è solo un nemico. Un assassino. Ha sparato contro di noi a Bromwood. Nox, fa come ti ho detto. Il mio è un ordine e tu devi soltanto obbedire. Ehi, sa benissimo che cosa me ne faccio dei suoi ordini. Se lo trovo nel mio mirino, è spacciato. Bravo, Nox. Ora possiamo farlo prigioniero. Il suo caccio è fuori uso. E anche per soli. Dobbiamo farlo prigioniero, Nox. Prendi questo, il racconto di Brumwood. Volevo riferire a lei, generale Thorbac. Che cosa succede, Irax? Mentre stavamo cercando di attaccare i guerrieri delle stelle, uno dei nostri piloti è stato fatto prigioniero. Prigioniero? L'ho preso io. Avete molto da imparare da noi Marines. Già che ci sei, Nox, non dimenticarti di raccontare che hai disobbedito agli ordini. Cosa? Lascia fare a me. Ora gli ho parlato. Questo uomo è un uomo. E' un uomo. Avanti, fatti sotto. Hai paura? Conoscete i regolamenti, non sono ammessi scontri. Dobbiamo ispezionare il caccia che è stato catturato. Tornate tutti ai vostri posti. Forza ragazzi, tornate subito ai vostri posti. Siamo sempre in stato di allarme. Allora, dottor Sein. Sto controllando la respirazione, il polso, la temperatura e tutte le altre funzioni vitali. Questo è l'elettrocardiogramma del prigioniero e quest'altro è di uno dei nostri uomini. Puoi confrontarli. Ma dottor Sein, sono assolutamente identici. Ho usato lo stesso procedimento per i campioni del sangue. Quello del prigioniero è a destra e quello di uno dei nostri è a sinistra. Io non vedo differenze. Che cosa può significare, dottore? Dottor Sein. Ho qui con me i risultati del computer per lei. Dunque, vediamo se il computer è riuscito a scoprire qualcosa più di me. Polso 90, respirazione 15, conteggio dei globuli bianchi 12.000, capacità cerebrale 1.600. Bene, Wilster, questi risultati confermano quello che io sospettavo. È esattamente uguale a noi. Dottore, voglio che Pil cominci a interrogarlo immediatamente. Vorrei che tu me lo lasciassi tenere ancora un po'. È abbastanza raro poter esaminare essere... Dottore, il quartier generale è ansioso di poter ottenere informazioni. Lo accompagni nella sala degli interrogatori, per favore. Sì, va bene, ho capito. Come sta andando, Sandor? Oh, Wilster, entra pure. Hai trovato qualcosa? Ecco, guarda questo. Vedi, questo è il metallo usato per gli astrocarrhi che hanno attaccato la base su Brumus. Mentre quello che sto analizzando è del caccia che abbiamo catturato. Sono identici. Mi sembra importante. La stoffa della sua uniforme è comune. Sulla terra voglio analizzarla per vedere quali prodotti chimici usano per le tinture. Va bene, e se tu trovassi qualcosa, fammelo sapere immediatamente. Sì, signore. Su, su, ragazzi, state via, non ingombratevi. Per il passaggio, via. Ehi, no! Lasci che lo prendo un po' per... Fermo, no! Guardate, uno schifoso prigioniero trattato come se fosse un ospite speciale. Questa macchina ci confermerà se dice la verità. Toglietegli la benda dagli occhi. Toglieti, voglio vedere. Rispondi, mi voglio sapere da dove vieni e qual è il tuo nome. Da quale sistema galattico provieni? Non ricordo. Tu stai mentendo! Non sto mentendo. Cosa stavi facendo in questa zona dello spazio? Che cosa stavi facendo in questa zona? Vado a farlo parlare io. Con un po' per... Non sto mentendo. Non sto mentendo. Mi voglio sapere da dove vieni. Si, mi voglio sapere da dove vieni e qui vieni. Ma... 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 E' inutile, prima o poi sarai costretto a confessare Non ricordo niente Che cosa stavi facendo nello spazio? La tua flotta, dov'è la tua flotta? Non puoi parlare Sì, è vero Rispondimi E' molto strano Dottore, in che cosa è diverso fisicamente rispetto a noi? In niente, per quello che ho potuto vedere nel poco tempo in cui l'ho esaminato Ci deve essere, dottore La macchina della verità non registra alcuna emozione E' come se quest'uomo riuscisse a isolarsi mentalmente Forse può davvero farlo Aspettate un momento Non credo che con questo metodo noi si possa ottenere qualcosa Hai ragione, Wilstar Spero che mi trattino altrettanto bene se mi fanno prigioniero Non conosco il tuo nome Non abbiamo celle per i prigionieri qui sull'arco Perciò ti affido alla custodia del dottor Sei Sarà lui a occuparsi di te L'unica cosa che abbiamo scoperto è che è molto simile a noi sotto tutti gli aspetti Non mi pare che Pil sia così bravo Probabilmente Pil non ha capito che tipo d'uomo stava interrogando E inoltre il prigioniero potrebbe essere stato preparato a resistere a ogni tipo di interrogatorio Perché? Che cosa intendi dire, Orion? Forse era previsto che lo catturassimo e la sua missione era di fornirci false informazioni Sì, certo, anche questa è una possibilità, Orion Wilstar Ho appena scoperto una cosa importante Lo abbiamo interrogato in modo sbagliato Che cosa significa modo sbagliato? Il dottor Sei gli ha dato da mangiare Adesso se ne stanno seduti a bere del latte Latte? Latte? Forse parla più volentieri se non deve star seduto con tutte quelle apparecchiature in testa Sarà bene approfittare dell'occasione per fargli dire qualcosa Lasciamo fare al dottor Sein per il momento È buono, vero? Mi dispiace che non sia latte fresco Per avere quello ci vorrebbero le mucche Tu non saprai neanche che cosa sono Grazie, dottore, grazie tante Grazie, dottore, grazie Ehi, chi è là? Pronto, Wilstar, Wilstar, pronto Il prigioniere è fuggito Fuggito? E adesso, Wilstar? Con Roy, hai visto quale direzione ha preso? Corro a vedere se il dottor Sein sta bene Che cos'ha intenzione di fare? Lasciamolo andare Lasciamo pure che vada Wilstar Fate tutti attenzione Il prigioniero è fuggito Ma dovete lasciarlo andare Non catturatelo Ripeto, non catturatelo Che cosa ha intenzione di fare, Wilstar? Forza, ragazzi Facciamogli vedere come si comportano i marini spaziati Capitano Wilstar, qui è la sezione C Parla, che succede? Qualcuno ha forzato il mio armadietto La mia tuta spaziale e la rivoltella Sono state rubate Va bene Lo abbiamo localizzato È sul ponte di Poppa Il suo caccia è lassù E vuole certamente riprenderselo La mia tuta spaziale è la sua Wilstar, lei l'ha lasciato scappare Iger, seguilo col radar Ricevuto Benchur, andiamogli dietro Perfetto Così potremo scoprire da dove viene Tutto a tribordo Chiedo il permesso di atterrare Qui Aser Pilota Aser Chiedo il permesso di atterrare Rispondete Maggiore Irax Maggiore Irax Qui è il pilota Aser Aser, dove ti è ricacciato? Ho attirato qui i guerrieri delle stelle Ora possiamo distruggerli Ti sei preso una vacanza E ora torni a darmi degli ordini? Sei stato fatto prigioniero Dai guerrieri delle stelle Ma non ho parlato signore Non ho detto nulla Non importa Aser Sei stato fatto prigioniero Qui non puoi tornare Cosa? L'impero della cometa Non riprende Chi si è fatto catturare dal nemico Potrebbe essere un traditore Non ho detto niente signore La prego Mi faccia tornare a bordo Questa è la volontà del principe Zodar E io desidero rispettarla Sei stato nelle mani dei nemici Non puoi tornare con noi Aser dirige su di noi Aser Flotta nemica dritta di prua Distanza 130 megametri Inserisci il pannello video Splendido Potremmo distruggere l'intera flotta Aspetta un momento Eager ingrandisci l'immagine Subito Guardate Non gli permettono di rientrare Sta ritornando qui Homer Mettimi in contatto radio con lui Il contatto c'è già Winster Winster Lo riprendiamo con noi Sono sicuro che adesso Vorrà darci tutte le informazioni possibili Qui astronave arco Passo Qui astronave arco Passo Qui è il capitano Winster Puoi ritornare sull'arco se vuoi Ti invitiamo a raggiungerci Non più come prigioniero Ma come compagno So che è una decisione difficile Cosa ne dici? Passo Non riapprezziamo la fedeltà Che hai dimostrato alla tua patria Ma lei la apprezza Noi sappiamo che tu non hai parlato Non ci hai rivelato niente Neppure il tuo nome Cosa vorrà fare? Si unirà a noi o ha intenzione di attaccarci? Che cosa? Winster Quel caccia nemico è stracarico di missili Dai che toman Dai che toman Wester, cosa cercava di fare secondo te? Atterrare o attaccarci? Non lo so La flotta nemica Questa è l'occasione che cercavamo Preparate tutti i cannoni Versaglio la flotta nemica Ecco l'argo Distanza 20 megametri Bene, puntatele addosso tutti i cannoni Questa volta la distruggeremo Tutte le batterie di cannoni sono pronte a far fuoco Benchus, dirigi al centro della flotta Se mancheranno noi si colpiranno tra di loro Bene Flotta nemica a 15 megametri Sono arrivati ora alla portata del nostro fuoco Tutti i cannoni fuoco Fuoco Grazie a tutti No, 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 no. Generale Torvac, ho brutte notizie che riguardano la squadra del Maggiore Irax. Cosa è successo? È stata distrutta. Cosa? I guerrieri delle stelle. I guerrieri delle stelle volano verso Telesar. Cosa li aspetta? Giunti a Telesar riusciranno a scoprire il segreto che li aiuterà a combattere il malvagio impero della cometa? E' un equipaggio coraggioso, un viaggio molto attento. Un'astronave è un destino che si intrecciano intorno a te. Con la forza ed il coraggio tra le stelle tu viaggerai. Orde di nemici affronterai per portare la libertà. Tu con noi viaggerai, tu con noi lotterai. La corazzata arco piloterai, gridiamo Star Blazer, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai. Il mondo vive di speranza e tu lo sai. Guerrieri delle stelle, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai. Il mondo vive di speranza e tu lo sai. Guerrieri delle stelle, vai!